ciao a tutti amici benvenuti in questo nuovissimo video finalmente ragazzi è arrivata la notte di halloween io ho preparato una cena a sorpresa per erika e per la vanessa loro non sono qua come vedete sono ancora fuori con papi li sto aspettando anch'io e restate con me perché scopriamo insieme la reazione di erika e di vanessa quando vedranno tutto quello che c'è dentro di me ragazzi vi dico una cosa questa non sarà una cena tranquilla e neanche loro non sanno cosa li aspetterà scopriamo insieme intanto vi faccio vedere tutto quello che ho preparato questa è la tavola dove ce n'erano guardate sono i pepistrelli ragnatelle il piattino i bicchieri c'è ragazzi non vedo l'ora di vedere la reazione di erika e anche di vanessa qua come vedete è un cranio dappertutto anche i pepistrelli anche un scheletro e chissà da quanto tempo sono questi orsacchiotti qua giù ragazzi potete entrare qua per favore buongiorno signorine entratevi prego mammi no io non sono la vostra mamma sono la strega Elena ti piace signorina ti piace quello che ho preparato per voi oddio a te ti piace quello che ho preparato come no sentetevi subito qua vi porto il menu prego signorine buonasera benvenute io vi porto i piaggi e voi signorine dovete mangiare tutto ecco qua il tuo piatto e dovrei mangiare tutto la ragnatela la ragnatela non li buttate giù potranno mangiarmi i piedini signorina erika ti porto anche te un piedino così no 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 si 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 dovrai mangiare tutto adesso ti porto tutto e dovrai mangiare chiami ma che buono lo sai cos'è quella una velutata di zucca e con le zampe di pipistrelli aiuto si a te ti porto una cosa simile beh devi mangiare tutto prego anche io voglio velutata di zucca con gli occhi di fantasma mi piace ho preparato con le mie mani tutto con le mie mani il faccioretto avete visto il faccioretto lì pulite per favore bene le mani anche la bocca e non sforcate il tavolo tutto chiaro? si dovete mangiare è buono? vi piace? a me mi piace sono contenta sono molto contenta anche a me mi piace poco e a te ti piace? a me mi piace poco poco no ti devi piacere tanto si ahahahah sono molto contenta che siete venute oggi da me ho preparato dei piatti molto molto buoni e c'è anche il dolce c'è anche il dolce si buonissimo a me mi piace i dolcetti si vedrete che cose buone ho preparato anche a me mi piace i dolcetti vittorio il dolce sono se mangiate la velutata di zucca con i piedi di pipistrello e con gli occhi di fantasma ti faccio vedere ma cosa stai facendo signorina? ma cosa stai facendo? avevo visto un piede di un pipistrello lo devi mangiare tutto chiaro? non l'avevo visto qua buon appetito vi ho detto buon appetito guardate qui una zampa di un pipistrello mangia mangia subito tutto ma mi sentite signorine? vi ho detto buon appetito buon appetito così adesso mangiate se avete bisogno di qualcosa mi chiamate e mi potete dire strega no mamma qual è mamma? strega Elena sono strega Elena è così dimmi dimmi signorina guarda che poco usa il faccioletto signorina usa il faccioletto per favore non toccare non toccare al tavolo si mangia stai attenta quella tutta è viva ma è vero è finta stai attenta ma è vero è finta ahhhh ahhhh mi vado a spaventare è così oggi è una sera guardate dove tutti dovranno essere spaventati si tutti si dovranno spaventare oh e va risuendo è risuendo allora allora se mangiate tutto quello che vi porto si va in giro a fare dolcetto scherzetto e ragazzi faremo un altro video e dovete vederlo io ho finito io mangio quanto voglio io wow ma guardate qua ma sono così contenta che hai mangiato tutto ti ha piaciuto signorina? si ti porto un altro po' si sicura? o vi porto un altro piatto? un altro piatto va bene io sono una streghetta con un gattino sei molto carina signorina ma ma tu il mio combellano mi comprerai un gattino cosa avete detto? gatto ma io odio i gatti a me non mi piacciono i gatti mi piacciono i rossi a te ma e che hai detto? i topullini oh signorina ti dico una cosa cosa? lo so cosa hanno le streghe? cosa? i gattini i topi e e i cani che abbaiano a me mi piacciono i pipistreli i topi e le ragnatele e i gattini non mi piacciono ho una terribile allergia ai gatti vi porto subito il secondo state qua aspettate arrivi allora allora i bis si dice quando vuoi ancora eh si e vuoi bis? no signorina che non hai mangiato praticamente niente si buta tutto vi porto un po' di sangue nooo ma cosa vorresti signorina? l'acqua va bene arriva subito metti per favore il bicchiere metti il bicchiere sul tavolo subito signorina guardati mi dovrei pagare doppio se quel bicchiere si romperà stai tranquilla ma io non lo rompo lo tengo bene ecco qua ragazze wow le mumie di cento anni queste sono le mumie fatte di cento anni fa state attente se vi farà male la pancia dovete andare in farmacia a chiedere qualcosa per mal di pancia queste mumie sono fatte di mio padre cento anni fa poverino adesso non c'è più signorina ma cosa stai facendo qua? ma nooo cosa stai facendo? devi mangiare tutto no 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 mangi tutto per me tutto si mangerà tutto io prendo io prendo io prendo queste io prendo queste signorina cosa cosa faccio ma cosa faccio ci perderà? mangiate io mangio se mangiate tutto vi darò anche il dolce vuole qualcuno il dolce? ok anche io voglio anche lei vuole il dolce signorina? si ma guarda che brutta questa mumia ma cosa le state facendo? ma io non faccio niente ma cosa sta facendo? ma io mangio insieme quindi si mangia oh mangi tutto 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 devi mangiare chiaro? voglio l'acqua subito mi scusate ecco signorina un fazzoletto per lei e un altro per lei è bello vi piace questi fazzoletto? mamma cosa c'è dentro? stai mi ferma signorina stai al tavola che ti porto io tutto al tavola ho detto no si sta al tavola quando si mangia tutto chiaro signorine e questo è il sangue che vi l'ho portato qual è? datemi i bicchieri fate attenzione a me mi piace il sangue no tanto questo sangue questo sangue l'ho portato pochino dal bosco stregato è buona è il sangue di pepistrello ragazze mangiate e bevete tutto non è vero non lo voglio mangiare eh sì lo dovrai bere no non lo voglio averlo come no? dovrai bere tutto ho detto no sì no sì no dopo non vi lascio uscire dalla mia casetta e non potrete andare a fare dolci e io lo so io lo so come andare no non lo sai io ce l'ho il mio telefono io 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 mangio tutto sì brava così si beva un po' di sangue di pepistrello e vi porterò anche il dolce ragazze ho una bella sorpresa per voi allora volete un po' di musica? sì volete ballare? sì sì prima mangiate tutto tutto si mangia e dopo si va a ballare signorine oh hm cosa avete fatto a questi mugni? è scusa è musa quella mugna ma cosa le avete fatto? siete pronte? adesso vi metto un po' di musica ok ok mmmm 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 oggi no no ah oh non mi vieni 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 ma che paura 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 ma cosa state combinando perchè non volete parlare con me balliamo insieme vai per favore signorina sono le mie cose vai signorina vedete la canzone vi porto il dolce adesso tutto al tavolo subito al tavolo ho detto cocco bello subito ecco finita la musica e volete il dolce sii non vi sento volete il dolce sii più forte più forte sii ecco così signorine adesso vi porto il dolce la zucca la zucca i cura di questa zucca per favore aspetta che non fare male io faccio i carezzi va bene va bene gli puoi dare la zucca dai dai la zucca così avete cura è come un bambino mi sono mi è sicuro io gioco con te Ehi signorina Signorina Ma cosa mi stai facendo? Dammi la zucca Dammi la zucca Dammi la zucca Dammi la zucca Soprattutto le dai la zucca Mi tocca la zucca Signorina Non stai comando Ma cosa stai combinando? Ecco Sediti al tavolo la signorina Posso giocare anch'io? Tieni hai cura Cura Mi hai capito? Colora di mia zucca Non vi porto il dolce Una mano Insanguinata Insanguinata Ma gli occhi non si mangiano Dammi Dammi quel occhio Dammi l'occhio qua Signorina mi dai l'occhio Subito Subito mi dai l'occhio Subito ho detto Ecco qua Che schifo Dovete mangiare Questo Mano Insanguinato E fate attenzione Io non voglio Ma c'è tanto sangue lì Ma hai fatto il tuo stampino Signorina Ma che domande sono queste? Signorina Non vi posso dire È un segreto Dividi E darle anche a tua sorella Signorina Signorina Guarda che mi sto arrabbiando Signorina Ma mi senti signorina? Ecco Ti do un dito Allora Tieni Mangia un dito No Mangia Mangia Ho detto che devi mangiare Questo litro Insanguinato Mettilo in bocca Dai Assaggia Dovrei mangiare Signorina Tieni Te lo metto qua Nel tuo piatto Lo mangi Signorina Come? Buono Ho mangiato Come signorina È buono? È morbido È buono È morbido Cosa è morbido? Wow Eh sì È molto morbido Perché lo sai È un pipistrello Ma è finto Non è finto È uno vero Per quello è così morbido Signora Mi dica Signorina Era molto buono E dolce Molto buono Sono contenta Però Non siamo in ritardo Dobbiamo andare Come dovete andare? No No Non ci vado A nessuna parte C'è la frutta E dopo Vi ho preparato I cioccolacini E basta Doviamo andare Va bene Prego I doncetti C'è la banana momia Sono i denti di Vampiro E anche i pipistreli Pala A me mi piace Così signorina È molto contenta La banana Signora Sì mi dica Per favore Mi dai un coltello Un coltello Ma per cosa Mi serve un coltello? Per tagliare la buccia Dai che ve lo faccio io La signorina Potete andare A fare Dolcetto O scherzetto Ragazzi adesso Vi dobbiamo salutare Perché dobbiamo Andare a fare Dolcetto O scherzetto Ciao 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 E non dimenticate Di iscrivervi Al nostro canale E di mettere Tanti like Fatelo Domani nuovo video State con noi E ciao Ciao Ciao